Ravenna ha bisogno di sviluppare nuovi mercati, altrimenti la disoccupazione continuerà a crescere. Queste le parole del segretario generale della CGL di Ravenna, Costantino Ricci, in occasione della conferenza stampa tenutosi ieri in CGL sulle situazioni economiche e occupazionali nella provincia ravennate. Intanto quest'anno i lavoratori, da gennaio i lavoratori ancora che fanno ricorso a molti datori sociali sono 2.616. È un dato che si sta stabilizzando e questo ci preoccupa perché il rischio è veramente che questi non riescano a rientrare nel segmento lavorativo. La disoccupazione è ancora molto alta, se pensiamo ai 18.000 disoccupati del 2008 e guardiamo i 33.500 disoccupati nel 2014, vediamo com'è cambiata la condizione. Poi do un dato, il numero degli occupati del 2015, mese per mese, è sempre inferiore del numero degli occupati del 2014. Questo è un dato molto significativo. Vuol dire una cosa, che gli incentivi del Jobat non hanno prodotto nuova occupazione, hanno sicuramente prodotto un cambio di occupazione, quindi tanti lavoratori che avevano contratti per cari, essendo stati assunti a tempo indeterminato, hanno una nuova condizione economica più importante. Però noi dobbiamo iniziare a analizzarla dal punto di vista delle politiche. Se questa era una politica che doveva favorire l'aumento dell'occupazione, questa non c'è stata. Purtroppo, però, questa va registrata. Ravenna, io dico sempre una frase, è un mio mantra. Se pensiamo di continuare a operare nei stessi settori, nelle stesse aziende, facendo le stesse cose e lavorando per gli stessi mercati, noi continuiamo a contare disoccupati. Ravenna ha bisogno di cambiare anche un'impostazione economica, di sviluppare nuovi segmenti, nuovi mercati, nuovi prodotti, perché sennò il rischio è veramente che la disoccupazione cresca. Senza contare cosa succederà nella questione dell'oil and gas, l'offshore e nella chimica in maniera diversa, che stiamo monitorando, però il rischio è veramente di avere nei prossimi mesi ulteriori difficoltà occupazionali. Grazie. Grazie.